Dal 2016 al 2021 sono stati 837 i ricoveri oncologici e 8117 le visite nell'ambito dell'attività ambulatoriale oncologica effettuati dall'Unità di Otorino Laringoiatria dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara, attraverso una modalità di presa in carico del malato che garantisce la multidisciplinarità e la centralità dello stesso. Sono questi i numeri che raccontano l'eccellenza dell'Unità Operativa Complessa di Otorino Laringoiatria dell'Ospedale di Pescara, riconosciuta centro di riferimento regionale per le neoplasie del distretto testa-collo, diretto dal dottor Claudio Caporale. Questo è un lavoro di gruppo che è venuto a maturarsi nell'ultima settimana quando c'è stata la delibera, che ha ufficializzato il centro, ma di fatto esiste da tanti anni. Noi ci occupiamo di tumori del testa-collo, quindi delle patologie piuttosto importanti, sono la settima causa di incidenza per quanto riguarda i tumori. Quindi è necessario soprattutto creare un pool di esperti che si occupino esclusivamente di questa patologia. Devo anche dire che l'occasione questa per inaugurare la giornata di prevenzione dei tumori del caporale, che ci sarà il 21 di questo mese, è stato indetto dalla società italiana di otorino-linguoiatria ospedaliera a cui faccio parte e che vedrà appunto la partecipazione dei pazienti che vogliono recarsi presso i nostri presidi per fare delle visite di controllo al fine proprio di prevenire, perché è importantissimo proprio cercare di divenire una diagnosi precoce di questa patologia, proprio per le conseguenze e le complicanze che ne possono derivare. A proposito di prevenzione, quali sono i segnali che devono destare preoccupazione? La prima cosa è identificare i pazienti che possono potenzialmente avere questo tipo di patologia, quindi pazienti che sono dediti soprattutto al fumo e all'alcol, ma è importante anche sottolineare la infezione da papilloma virus che è un altro elemento da poter identificare soprattutto tra i giovani e poi alcuni sintomi importantissimi quali la disfagia e la disfonia, cioè la difficoltà nella deglutizione e la difficoltà nel parlare. Del riconoscimento al lavoro svolto si è parlato oggi in conferenza stampa presso la sala riunioni della direzione generale della ASL di Pescara e alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. Con delibera di giunta abbiamo approvato e dato tutte le relativi requisiti sono stati valorizzati e soprattutto abbiamo nell'ambito della nostra regione un centro di riferimento per quello che riguardano le patologie testa collo da un punto di vista oncologico. Non è più il paziente che va alla ricerca dello specialista ma è un pool di specialisti che prenderanno in carico il paziente. Quindi un intervento multisistemico ma soprattutto un'attenzione anche relativa alla prevenzione.